Con i 79 casi odierni di positività al covid-19 sale a 529 il numero dei contagiati in Abruzzo diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara e nel laboratorio di biocontenimento dell'istituto zooprofilattico di Teramo. Sono 5 le persone decedute oggi che si sommano alle 17 dei giorni scorsi e che portano il numero delle vittime con coronavirus a 22. Per quanto riguarda gli ospedalizzati in totale sono 229 di cui 44 in terapia intensiva così distribuiti tra le 4 ASL. 5 in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Chieti, 27 in provincia di Pescara e 8 in provincia di Teramo. Sono positive ma con sintomi lievi che consentono l'isolamento domiciliare altre 265 persone, 6 in provincia dell'Aquila, 46 in provincia di Chieti, 143 in provincia di Pescara e 70 in provincia di Teramo. Sul fronte delle buone notizie lieve incremento delle persone totalmente guarite, negative, cioè ai due tamponi di controllo che ora salgono a 6 rispetto ai due di ieri. 7 invece sono i pazienti clinicamente guariti che da sintomatici sono diventati asintomatici. Numero però che potrebbe essere differente in quanto alcuni pazienti clinicamente guariti si trovano ancora in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda i tamponi si procede al ritmo di 500 giornalieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus ne sono stati eseguiti complessivamente 3035 di cui 1814 risultati negativi.